che l'ho conosciuto, l'ho conosciuto che il primo malloppino di poesie scritte così l'ho dato a lui e aspettando con grande ansia il suo preziosissimo giudizio, dirò piuttosto della persona che mi ha istradato a rivolgermi a lui, alla sua grande umanità, Alma Borgini, e mi è venuto in mente quando tu Franco dicevi l'unica rivista questa di Vernisce che ha pubblicato due parole sulla poetica e sulla poesia di Innocenza Cerotta Samà, ecco quando ho parlato con te in uno degli ultimi colloqui ho notato che tu avevi una fietà che ti è propria perché tu hai la fietas proprio quella latina perché tu sei un grande uomo, una grande anima, tu avevi questa fietà, questo rammarico di non aver fatto abbastanza per Alma Borgini che è morta 5-6 anni fa dopo aver combattuto con una orribile malattia per 20 e più anni ecco mi sembrerebbe se posso giusto, opportuno, suggerire di scrivere qualcosa nella vostra bella rivista con una persona così garbata, intelligente e colta come è il nostro editore che ci ha fatto questo dono di essere presente qui su un numero che lui vorrà perché anche tu ne saresti contento per primo perché dicesti non si è fatto niente per Alma si è fatto un'opera omnia eh, volevi l'opera omnia, volevi l'opera omnia e francamente questa persona è già pubblicata sulle... io che quando fu commemorata Alma c'è un mio pezzo sì, sì, c'è un pezzo su per me ma per Innocenza Cerotta c'è un po' di più no, per Alma? sì, per Alma c'è quanto per Innocenza, io non lo so perché purtroppo mi è letta su che mi dice no per Alma, ma tu ora stavi parlando di Alma sì, Alma ma sulla rivista Parichie Pagine intendevo proprio un parlare della sua poesia, della sua poetica intendevo, insomma, affrontare proprio l'argomento da un punto di vista letterario capito, ho capito che tu ti riferivi a Innocenza cioè, insomma, è scritto per Alma, sì, ma... l'abbiamo inserita nell'ultimo numero, pagina sia 44 che 48 come l'erba d'armi diceva ah no, sul numero 44 allora sul numero, c'è un servizio sfolto? l'abbiamo, ne abbiamo parlato in due numeri Simonetta nel numero 44 sì, nel numero 48 c'è due numeri bene è un nome, ecco purtroppo sì, comunque per Alma bisogna fare di più bisogna fare di più questo sì, tutto è facilito grazie grazie